Elisabeth Buffett Pubbio Grazie Ma voi che cos'è che vi aspettate, scusate? Il contesto di godetevelo Io vi eviterei le cosiddette stronzate la David Copperfield per usare l'incipit da cui immagino la scuola prende al nome, vi evito anche delle cose che possano essere una lezione perché non ho proprio nulla da quel genere lì cui attingere. E invece vi chiederei, ho chiesto chi siete, fasce di età e momento della vostra carriera qua e mi è stato detto che siete praticamente dei rookies che stanno per scegliere l'orientamento definitivo e sono quindi al loro primo anno. Io sono completamente a vostra disposizione ma non posso pretendere che la stragrande maggioranza di voi abbia anche soltanto vagamente visto delle cose che ho avuto l'opportunità e il privilegio di fare. Siccome immagino che siano tanti quelli che non sappiano assolutamente chi io sia o che cosa abbia fatto, io sono un bastardo privilegiato che non ha nessuna cittadinanza qui se non che si sono verificate delle stranissime coincidenze nella mia vita. Ennesima conferma che la vita succede mentre fa i piani, io dovevo fare prima l'avvocato e l'ho anche fatto molto male, poi dovevo fare lo sfaccendato e mi hanno chiamato per andare a fare delle telecroniche di college basket in televisione e venivo pagato dai miei ex soci col cosiddetto patto di non concorrenza che in Italia esiste per toglierti dal mercato, è clausola classica del mondo legale, dei tuoi ex soci, stai fuori, non ci fai concorrenza e noi ti paghiamo. Io avevo pensato di vivere così per il resto dei miei giorni, invece è arrivata una telefonata e sono andato a fare dei commenti televisivi di pallacanestro a una televisione che all'epoca si chiamava TelePiù. La cosa si è espansa, però io ho pensato che la mia vita siccome si deve viverla in cicli della mia visione della Terra, cioè 15-15-15, stavo per completare il secondo ciclo quando ero ormai sicuro di andare in Giappone a insegnare italiano a delle signore giapponesi, qui non avrei capito nulla di quello che dicevano loro a me, ma loro neanche quello che io dicevo a loro. E invece poi per una serie di particolarità uno dei miei amici e colleghi mi ha detto ma perché non provi a raccontare un po' di storia, dobbiamo riempire dei pezzi nell'intervallo delle partite o nelle fasi immediatamente antecedenti quando la partita è notturna. Ma guarda, volentieri, ditemi uno che vi piacerebbe, mi hanno fatto una serie di nomi di giocatori di basket che io ritengo siano dei semidei, cioè degli uomini che realmente non si limitavano a giocare a basket. avevano una capacità di imprimere la loro manualità, la loro virtuosità in qualsiasi posto andassero, fino ad arrivare a giocatori come Will Chamberlain. Vincere una partita, se avevi Will Chamberlain in squadra, sfumava il risultato, ovvero se tu avevi un essere umano che in un'altra concezione della storia sarebbe stato onorato come un dio, 221 centimetri, non vinse la medaglia al Declatone alle Olimpiadi esclusivamente perché Al Horter, che era suo compagno all'Università di Kansas, l'Ori Olimpici ne ha vinto tre, gli disse tutti gli sport che servivano per vincere il Declatone, tu hai detto lui vinco questo, vinco questo, vinco questo, vinco questo, vinco questo, no, non vado a fare il Declatone perché lui, salto con l'asta, non l'avrebbe fatto. In compenso ha avuto 20.000 donne e pare che sia anche approssimato per difetto. Quando puoi parlare di uomini di questo genere, è evidente che è troppo facile la componente di come sono stati al mondo, di come hanno voluto portare tutto oltre, specialmente negli anni 60, quando obiettivamente credo sia respirazione era diversa, è troppo semplice. Allora, quelli che sono dall'altra parte di Scandito, perché non le vieni a raccontare in un contesto differente? Non quello che piace a te, cioè quello di persone per lo più morte o per lo più perse, ma viene a raccontarlo dei contemporanei. Ma vale, vale, ed è una cosa che alla televisione dove lavoro io, che è Sky, usare il bianco e nero in una televisione che fa dell'estetica il suo momento principale, cioè vogliono vedere il filo d'erba che sfiora lo zigomo del giocatore che è andato in scivolata per salvare il pallone sul calcio d'angolo, l'idea di far vedere delle immagini in bianco e nero con i giocatori che si muovono in maniera accelerata e indistinta, è esattamente antitetico. Ma qual era la chiave, almeno quella che mi è stata raccontata da parte dell'amministratore delegato? Vale, ogni tanto, rallentare il battito cardiaco di una televisione o anche di altri momenti di espressione. Rallentare il battito cardiaco è un antichissimo uso degli uomini più avanzati. Lasciate perdere quelli che per costione fisica lo potevano fare, pare che Coppi avesse 40 battiti al minuto a riposo e non molti di più quando saliva in bicicletta. Rallentare il battito è l'idea di fermarsi, di raccogliere, di assorbire, di trovare il tempo per pensare a quello che si sta per dire o immaginare, può anche stare zitti. E mi è piaciuta questa ipotesi, mi è piaciuta questa ipotesi perché non era una certezza, era solo un'ipotesi, di poter provare a fare dei racconti legati al tempo, ovviamente a ritroso, e di potersi fermare. Ho chiesto il permesso, scusate ma posso mettere dentro delle altre cose? E mi è stato detto sì, compatibilmente col fatto che comunque sono storie di calcio. E sono venute fuori delle storie che obiettivamente mi sembrano dei gran pretesti, nel senso che il calcio è sinceramente un pretesto per parlare d'altro. Ho pensato che il Novecento fosse il secolo più affascinante della storia dell'uomo e che quello che è successo nel Novecento incide sulla nostra vita contemporanea. Io sono tornato l'altro ieri dall'India, dove sono andato a intervistare Alex Del Piero, ma questo è il mainstream, perché sta giocando lì in questo momento, ma in realtà mi sono avventurato, e stavolta secondo me, a differenza di altre volte, non c'è sotto la rete, nella storia del calcio indiano. Se gli utenti di Sky superano il sesto minuto della storia del calcio indiano, per me sono tutti eroi. E' basato su nulla. Sono favole di un mondo che ha tre milioni e mezzo di dei, che ha un miliardo e duecentomila persone che lo abitano in questo momento, di cui l'età media è 27 anni, in un contesto pazzesco, e fare un salto indietro nella loro storia però è estremamente affascinante. Perché ovviamente la storia degli indiani è la nostra storia, è la più antica civilizzazione ariana, quindi noi veniamo da lì per tanti aspetti. E questa è stata una lezione enorme. Nel momento in cui tu vai lì e ti appropinqui a questo mondo, sei obbligato a pensare a te. Io penso che questo sia quello che può far succedere un racconto. È brutto essere autoreferenziali, ma secondo me è corretto filtrare le cose di cui veniamo a conoscenza. Perché ogni volta che si prepara una storia, si viene a contatto con tanti aspetti di quella storia. Le cose che non sai le filtri attraverso chi pensi di essere. Ecco, se si va in India, questo succede, o perlomeno decisamente mi è successo. Tanto premesso, penso che la storia sia assolutamente inascoltabile, saranno delle belle immagini. Quello che volevo chiedervi è, in relazione a chi siete in questo momento e che cosa volete o pensate di volere per il vostro futuro immediato, sono a vostra disposizione, cioè non ho nessun problema a raccontarvi quelli che non esistono, ovvero sia i segreti di narrazione. Proprio perché io non faccio altro che chiederlo quando incontro qualcuno che mi è piaciuto per quello che ha raccontato o narrato. Una cosa che mi aveva colpito tantissimo era, penso che qualcuno di voi abbia letto qualche scritto di Chuck Palini, è quello di Fight Club. E siccome ero ospite al Festival di Locarno, anni fa, al Festival del Cinema, e lì si può parlare con tutti, registi, attori, gli ho chiesto, scusi, quali sono i suoi segreti di scrittura? Cioè, quando vede una cosa, come se la nota? E lui fece questo gesto. Solo che dovete pensare che rispetto al mio, Dio aveva un braccio e il suo grande così. E gli chiesi, natura? Se lo scriveva. Si scriveva il suo avambraccio, che era di queste dimensioni, era il suo moleskin. Lì ho capito. Quindi, se uno che scrive in quel modo può permettersi di annotare in questo modo, vuol dire che realmente non c'è un segreto. Cioè, soltanto chi siamo, se abbiamo un'avambraccio del genere, è l'idea che ogni volta che vediamo qualche cosa, abbiamo una sorta di dovere nei nostri confronti di trattenerla. Trattenerla ci aiuta a recuperarla. Di tutte le cose che vorrei dirvi veramente, se vi interessa un'osservazione, tenete presente, non date mai nulla per scontato. Tipo, questa me la ricordo. No, ma figurati se questa qua non mi torna in mente quando ne ho bisogno. No. Per memoria che possiate avere, per referenza visiva o olfattivo, qualsiasi altro senso che vogliate usare, non restano, vanno via. Scrivetevela. Alle volte, potrà capitare, scrivete, annotate, fate quello che vi consente la tecnica moderna. Alle volte, mi è capitato, di cambiare integralmente una cosa che volevo fare, perché ho trovato una cosa che ho scritto tempo addietro. Per esempio, io ho fatto vari viaggi in India negli ultimi dodici anni. Una cosa che volevo fare, l'avevo annotata diversamente a suo tempo e l'ho cambiata. Ed era questa. Come si fa a spiegare in una storia di calcio, perché comunque è una storia di calcio, a un pubblico come quello che immagino possa vedere una trasmissione del genere, quindi tra i 20 e i 45, educati in senso anglosassone, su un argomento che è semi-inaccessibile, ovvero sia il sistema castale indiano. Se io cito durante la narrazione una parola che abbia a che fare con il sistema castale, in questo caso era bramini, perché in una delle prime partite che sono giocate in Asia di calcio, probabilmente la prima, un professore di educazione fisica inglese in Kashmir vuole far giocare dei ragazzi, sono suoi studenti di college, quindi vengono da, diciamo, classi benestanti, e sono una decina di ragazzi bramini. E i bramini dicono al prof, prof, scusi, a questo gioco che ci vuole far giocare lei, quello strumento lì, il pallone, di che cosa è fatto? E il prof, di cuoio. Quindi, come avete ottenuto questo cuoio? Ragazzi, abbiamo scoiato un animale. Prof, noi non giochiamo, il pallone è impuro. Un bramino non può toccare, assolutamente, neanche con i piedi, figurate che parte i nobili, un pallone che è tratto da un animale. I ragazzi indiani non vogliono giocare. Gli inglesi, come spesso succedeva, se lo potevano permettere, stiamo parlando alla fine dell'Ottocento, passano le vie di fatto, quindi i ragazzi sono costretti a giocare. Ma per i primi dieci minuti, praticamente, la palla, un po' perché sono scarsi, un po' perché non la vogliono toccare e non la toccano mai. Finché su un rimpallo, uno dei ragazzi la prende in faccia. Quindi è contaminato e quindi la partita termina. Questa è probabilmente la prima partita che si è giocata di calcio con un'idea di avversario in cui giocasse una squadra asiatica. Ma se tu sei all'interno della narrazione, lasciate perdere questo aspetto, questo aspetto è comprensibile. Che cosa dici essere un bramino? Secondo voi, così a sensazione, quanti italiani tra i 20 e i 45 sanno che cosa va inteso per bramino? Quanti di voi sarebbero in questo momento in grado di usare il termine bramino con cognizione? Io assumo la metà. Questo silenzio mi preoccupa. Tanto. E infatti avete ragione voi. Non è così scontato. Per niente. Però se tu hai una narrazione a disposizione, quanto tempo vuoi dedicare a questo argomento? Non è che lo puoi approfondire troppo. In India esistono 3500 caste, ma il termine casta non è un'invenzione degli indiani, è un'invenzione dei portoghesi, a cui dobbiamo anche il nome Bombay, che sarebbe Bonabagia, la baia tranquilla. Loro non usano il termine caste, usano il termine varna, che è un termine sanscrito che c'è nei loro testi, che hanno in questo momento 4.000 anni, che informano però la loro cultura ancora. Quindi loro identificano quattro caste. I bramini, cioè quelli che originariamente sono legati al mondo del culto, mi piacerebbe usare il termine ecclesiastico, ma non è così, però avete inteso, credo, cosa voglio dire. Gli shatriai, i guerrieri, i vaishas, che sono i commercianti, Gandhi era un vaisha, e poi i sudras, che sono una classe che arriva successivamente, che sono, diciamo, gli operai, i contadini. Le prime due classi, cioè le più importanti, le prime due caste, perdonate il termine improprio, vuol dire che, per essere una delle due, bisogna che un bramino o uno shatrassi sia reincarnato in un uomo almeno due volte. Questo gli dà questa caratteristica. Io so questa cosa, ma non me la ricordo. Se non la sai, la sai e non la sai, è come dire, o si è vergine o non si è vergine, però è uno stato di mezzo. La leggo e dico, no, questa la devo mettere, però devo pensare come faccio. È un po' un pollosa, richiede del tempo, e quindi la devo cercare di filtrare all'interno della storia, poi non la posso far sentire troppo cattedratica, devo cercare di giocarmela in maniera morbida, però penso a, io sono tenuto a dirlo, chiedo la mia produzione, se io uso un termine del genere, voi un crawl, una scritta, non la potete mettere, è troppo complesso, e quindi l'abbiamo messa. Ma questo mi fa tornare all'argomento di cui vi stavo parlando, ovvero sia, se io non avessi letto i miei appunti del 2002, questa cosa non l'avrei ricordata. Eppure non è una cosa che io non abbia, però mancava il triangolo, non riuscivo a chiuderlo. Ecco perché vi dico sinceramente, non sopravvalutiamoci quando dobbiamo immaginare una cosa che ci servirà, perché tutto quello che incontriamo ci serve. Io tendo ormai a scrivere ogni cosa che vedo. E sono abbastanza paranoico da questo punto di vista, perché continuo a pensare che questa qua tornerà, e non so dove metterle. Mi sono accorto che ho ereditato da mio padre la capacità di scrivere decine e decine di quaderni scritti con delle lettere piccolissime, che posso leggere oggi soltanto con una lente, e più o meno ci riesco, e ogni volta mi rendo conto che io non mi ricordo nulla, che penso di avere un buon muscolo, perché la memoria è un muscolo, ma in realtà non mi ricordo nulla. E quindi in realtà io sto perdendo tantissimo. Non so se avete visto la prima mezz'ora di un film, modesto per la rimanente parte, ma molto divertente per i primi 30 minuti, che si chiama Lucy, dove Luc Besson immagina che cosa sarebbe di un essere umano, Lucy è la nostra progenitrice africana, che utilizzasse il 100% delle sue facoltà intellettuali. Per la prima mezz'ora è esaltante il film. Cioè noi in realtà si calcola che arriviamo all'11, 12, 15, se siamo delle persone particolarmente avanzate. Io sono uscito da quel film pensando, Fede, ma quante cose lasciamo indietro? E allora mi è venuto in mente il mio piccolo epitaffio sulla tomba di mio padre, che era quello che penso di aver imparato da lui, che non si era mai visto abbastanza, non si era mai conosciuto abbastanza, non si era mai letto abbastanza, non si era mai saputo abbastanza. Però ogni volta che prendo un libro di mio padre in mano, l'ex libris è che ne so io, che è quel concetto ma anche un altro, e cioè che ci sono anche dei limiti, soprattutto dei limiti, alle nostre particolari cognitive. Ma voi appartenete a una generazione che è in un contesto dove sinceramente avete accesso a tutto. Immaginatevi che cosa potesse essere negli anni 20, 30, in una situazione come la vostra. L'informazione era rarissima, rarefatta, semi inaccessibile e quindi classista. Il motivo per cui gli indiani, che come vi ho detto, sono un miliardo e due, ventisette d'età media, fra qualche anno, come i brasiliani credo domineranno il mondo, è perché ormai la nuova tecnologia ha permesso a gente che non avrebbe mai avuto accesso a informazioni di arrivarci. E questo cambia completamente la percezione di com'è il mondo contemporaneo, perché un miliardo e due di persone, nelle condizioni in cui sono loro, se trasportate indietro di 50 anni, non avrebbero la crescita che hanno. Lasciate perdere che hanno i migliori astrofisici del mondo, ma questo è normale. Gli indiani hanno sempre guardato il cielo come pochissime altre popolazioni. Però ti accorgi che i loro giovani improvvisamente hanno accesso a una quantità di informazioni che non avrebbero avuto prima e ce l'hanno anche quelli delle classi che sono in crescita. Quindi se la proiezione è questa, fra cent'anni loro avranno un humus di giovani, come siete voi adesso, con una qualità e una quantità di informazione spaventosa, anche perché loro hanno una motivazione più forte di tutti. E l'altro popolo che mi ha impressionato è stato il Brasile. I brasiliani che... Ho passato 40 giorni in Rio de Janeiro che ha una vetrina, l'oceano e le sue spiagge, quelle che si vedono sempre, poi però sei tenuto ad avventurarti nel loro mondo. E vi consiglio, se mai ci doveste andare in tempi brevi, di andare a Omoro d'Alemão, che è una cosa che è tratta da Blade Runner, praticamente. Le Olimpiadi del 2016 a Rio si disputeranno come stadio principale, l'Olimpico è nel centro di una favela. E loro hanno organizzato e messo in piedi una sorta di grande cabinovia che viaggia per una quindicina, ventina di chilometri su dei tralicci altissimi, da 60-70 metri, e si vola sopra queste favelas, che loro chiamano pacificate. Molte guide non vogliono portare la gente perché pensano che da sotto la gente spari, ma secondo me invece i brasiliani avrebbero tutto l'interesse a dirci perché fra cent'anni loro avranno una chiave di lettura al mondo, perché è probabile che fra cent'anni il mondo sarà composto per il 70-80% da favelas e loro stanno provando adesso a vedere che sistema si può usare per mettere insieme i contesti. Chi è nelle favelas e chi è fuori dalle favelas e come lo stanno facendo loro, anche perché hanno una metafisica capacità di vivere assieme, credo che al mondo non lo stia facendo nessuno. E quindi questi sono gli ultimi due viaggi particolari che ho fatto e in ognuno di questi ho segnato cose che immagino possano tornarmi utili se mai ne avrò bisogno. Il problema è sempre ricordarsi dove le hai messe però, perché se scrivi a penna è un casino. Io non ricordo più dove metto le cose, quindi le cerco in maniera affannosa e trovo una cosa che ho scritto ma non stavo cercando quella e dico, beh, allora tengo questa e così via. Non ho sufficientemente abilità metodica, però come immagino invece a voi succeda, ormai non avete più bisogno di usare la carta. Però vi consiglio di farlo lo stesso, perché delle volte come avete scritto, proprio la grafia vi dice lo spirito che avevate quando stavate dicendo quella cosa o leggendo quella cosa. A me piace leggere dei libri nei luoghi dove vado e annotarmi dove lo sto leggendo. Ristorante tal dei tali, volo tal dei tali, bar tal dei tali. Dove sono? Perché in quel momento, proprio da come io lo sottolino, mi tendo a ricordarmi che è stato d'animo a me quando vedevo quella cosa e mi piace tantissimo leggere dei posti dove sono, perché mi dà l'illusione di riuscire a comprenderli meglio. Su questa stregua io potrei andare avanti anche un po', ma vorrei evitare di annoiarvi così e invece chiedere a voi se avete delle cose più specifiche che volete chiedere ammesso che siano di interesse. Allora, piacere, io sono Giulia, primo anno. Ciao Giulia. Allora, a me il mondo indiano... Di dove? Saluzzo, in provincia di Cuneo. A me piace molto il mondo indiano, ho fatto la tesina della maturità su questo e ho letto La città della giro di Dominic Lapierre, queste cose qua. E la cosa che mi... Sei stata a Calcutta? No, purtroppo no, perché ho solo 19 anni, quindi... No, no, però... Non vale più questa. Eh, più o meno. E quello che mi ha colpito di più di quel mondo, di quella dimensione, sono stati i colori. Perché lì ogni singolo colore ha un significato, un'eccezione diversa. e volevo capire, visto che lei è stato molto spesso in India, come ho capito, qual era la cosa che l'aveva colpita di più di quel mondo che è diametralmente opposto al nostro. Dunque, riagacciandomi un attimo alla nostra amica Lucy di prima, ci vengono attribuiti cinque sensi e l'uso che facciamo ai nostri cinque sensi è personalizzabile. Se c'è un luogo della Terra che ti obbliga a usarli tutti e cinque, è quello. È il posto del pianeta dove sono stato, dove sei obbligato a cambiare il registro delle tue emozioni, perché che tu voglia o non voglia, non puoi distaccartene. Cioè, arrivano. E l'altro giorno proprio perché dovevo dire una cosa, sempre all'interno della narrazione io cercavo una via di uscita su un piccolo snodo della storia e lo snodo che mi serviva era qualche cosa legato a delle figure femminili e io ho pensato a due cose perché quando sei lì sei obbligato a pensarci. Uno, lo sguardo delle donne indiane. Lo sguardo delle donne indiane non corrisponde a uno sguardo altrove. il loro modo di guardarti è diverso. Non hanno bisogno neanche tanto di usare i loro tanti trucchi di macchiaggio perché la dimensione degli occhi degli indiani è spaventosa. Voi sapete che ci sono dei criteri distintivi specialmente specialmente a Oriente per somatizzare gli esseri umani. Per esempio nell'induismo ma è recepito anche nel mondo buddista avere le ciglia particolarmente fondi o addirittura non avere soluzioni di continuità delle ciglia che arrivano praticamente ad avere un fronte unico è considerato un simbolo di grande nobiltà di pensiero e di forza ma se sotto quello ci sono gli occhi degli indiani e delle indiane sei obbligato a guardarle allora come spesso succede tante bambini bambine donne uomini ti chiedono di fare una fotografia è difficile dire di no perché veramente sono io che la vorrei fare con loro però di fatto te la fanno allora per una volta abbiamo invertito il trend io ho visto avevo bisogno nella storia di uno sguardo è passata una ragazza che aveva degli occhi che non si potevano descrivere io le ho chiesto proprio sinceramente posso fare una fotografia con te lei con delle amiche si è guardata attorno dicendo ma che cosa vorrà questo qua da me però poi ha consentito l'abbiamo fatta e lei è stata filmata mentre mi guardava e sono sicuro che quella scena viene particolarmente bene e l'altra cosa che mi aveva colpito tantissimo in questo contesto è che in un sistema del genere dove c'è gente che vive abbondantemente sotto la soglia di povertà in quella parte del mondo c'è un rapporto con i tessuti che non esiste da nessun'altra parte ovvero sia sia per la qualità del tessuto sia per il colore del tessuto che evidentemente tinteggiano con queste ocre e questi colori che loro che traggono dal terreno e che lo fanno da 4.000 anni e lo fanno in un modo che è evidente ci sono dei luoghi dove si passa c'è questo vento del Rajasthan e vedete questi teli che stanno prendendo il colore che vogliono loro ma che quest'aria del Rajasthan sbattendogli gli da che è diverso è come non so la salinità dello sherry voi potete piantare la stessa vite e usare lo stesso procedimento ma se la vite non ha preso il sale che viene dall'oceano a San Lucar de Varrameda non viene lo stesso mosto è lo stesso concetto in India cioè io posso mettere dei pigmenti su del telo o su una una stoffa ma non viene così perché il resto che ci dà è la luce che c'è l'aria che c'è e la cultura millenaria che hanno del tessuto e la cosa che mi colpiva di più è che anche donne che sinceramente sono borderline di esistenza hanno sempre una prossemica tra loro e quello che vestono che non esiste da nessun'altra parte del mondo è un modo di drappeggiare sul proprio corpo un modo di muovere le spalle che hanno esclusivamente loro puoi girare ovunque in oriente ti potrà piacere parte del sudest asiatico ci sono delle donne in sudest asiatico che si muovono bene ma quella capacità ce l'hanno soltanto loro e io le ho guardate per dieci giorni con un'amirazione infinita quindi per una donna che immagino abbia il tuo senso estetico che abbia voglia di fermarsi a guardare ecco quello lì allora è proprio un po' per la tua passione un po' per il tuo momento corrente di esistenza il viaggio che devi fare in tempi brevi grazie niente un piacere per me salve sono Nicola vengo da Verona ma anche io sono del primo anno io volevo farle una domanda che riguarda la sfida e la determinazione la prendo un po' alla larga io mi ricordo che guardavo di notte guardavo le partite NBA e raccontate da lei soffrivo molto di insonnia quindi in realtà mi ricordo la sua voce quella di tranquillo che parlavano magari sto facendo le mie cose scrivevo leggevo e mi ricordo la tv era accesa e una cosa con quei minuti interminabili che passavano tra un tempo e l'altro quindi insomma era un buon passatempo però mi ricordo che lei mi ha passato un concetto di questi giocatori che prendono decine di milioni di dollari l'anno e probabilmente sono super uomini a livello fisico sono super uomini a livello fisico costretti a degli standard incredibili e a sforzi incredibili per mantenere quello stato quel fisico insomma e gente che è lì al top cioè che sta giocando in NBA e durante l'estate fanno 8 8 ore 10 ore di allenamento per mantenere lo standard fisico perdono 10 kg di peso io mi ricordo che ho riflettuto su questa cosa dell'NBA e non ci ho riflettuto ci ho riflettuto nel senso che ho smesso di stare in piedi la notte e ho cominciato a guardare magari le partite il giorno dopo per guardarla di più no perché ho capito che loro erano là per quel tipo di determinazione cioè c'era una il modo che hanno di affrontare ogni giorno ogni partita ogni punto ogni palla non è da sottovalutare è una cosa molto profonda e radicata secondo me nella cultura americana e finisco la domanda e secondo me quella determinazione e quella sfida che loro vanno a affrontare ogni giorno è il motivo per cui loro sono lì assolutamente quindi volevo sapere cosa ne pensava di questa cosa io sono d'accordissimo con te soltanto che vorrei estendere orizzontalizzare questo concetto a chi e penso siano tanti non abbia necessariamente visto o voglia vedere una partita dell'NBA però penso che tra di voi comunque grazie mille perché è veramente un bello stimolo vadano al cinema penso che ci siano più appassionati di cinema che di NBA in sala in questo momento e vi vorrei fare un'analisi comparata su questo punto mi scegliete un allenatore un attore italiano che vi piace anche uno solito un allenatore un attore che in questo momento fa cinema televisione uno è proprio castellito perfetto guarda ci siamo sono felice chi è che l'ha detto grazie mille proprio io speravo speravo dicessero castellito non posso pretendere però perfetto perché 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 castellito è stato ospite anche lui allo stesso festival dove Palinieck mi ha fatto vedere l'avambraccio e ha tenuto una conversazione veramente di alto livello di 80 90 minuti e ha erudito la platea su un particolare fondamentale ovvero sia l'attore nel sistema italiano perché adesso lasciamo castellito lì per un secondo e vi prendo due attori americani molto noti uno è Robert De Niro e l'altro è lo splendido versatilissimo Matthew McConaughey che immagino in questo periodo lo stiate vedendo anche più di un'occasione avete mai visto toro scatenato Dallas Buyers Club in toro scatenato De Niro prende Raging Bull il titolo originale 40 chili per interpretare il personaggio in Dallas Buyers Club Matthew McConaughey per poter fare il protagonista della storia che se per caso non avete è un film che è stato in nomination due anni fa dall'anno scorso mi sembra quindi è un film abbastanza recente come combattere una malattia che si è diffusa parecchio diciamo tra gli anni 80 e 90 negli Stati Uniti e per interpretare quel personaggio che tra l'altro rivedete in parte quando lui fa il flashback il flash forward in True Detective cioè ha ancora quella somatizzazione cioè non ha ancora recuperato la sua struttura originaria ha tenuto buona parte di Dallas Buyers Club perché probabilmente gli serviva quindi un attore americano di altissimo livello è in grado di martoriare il proprio corpo fino a gonfiarlo ridurlo in maniera abnorme perché loro seguono le loro teorie di teatro ovvero sia l'immedesimazione totale dell'attore nel personaggio quindi se io non sono dentro nel corpo che aveva lui nella storia io non posso essere realmente lui Castelletto buonissimo attore italiano ti racconta l'altro angolo del mondo cioè quello italiano in cui ti dice io non farei mai quello che ha fatto De Niro non mi interessa non mi dà di più io sono un attore italiano quindi un attore di commedia quello che posso cambiare dal punto di vista del mio registro di recitazione non è il corpo è il travestimento è la voce ma mai la mia corporeità posso muovermi in un modo diverso ma non cambierò mai la struttura del mio corpo non so quale delle due forme che sono valide entrambe permesso che l'americano ti opporrebbe il fatto come ti direbbe De Niro ma io ho fatto anche commedia il problema che ho accettato quel ruolo e quindi il mio registro è più ampio ma al di là di questo quale delle due sia un attesi che è più vicino alla vostra sensibilità però è esattamente quello che diceva lui un giocatore americano che guadagna quello che guadagna Lebron James che è in questo momento il più famoso giocatore e forte giocatore del mondo è un contratto che lui fa non tanto con la squadra di impresa di spettacolo che negli Stati Uniti si chiama sport ma è quello che fa con se stesso la rule of engagement è con se stessa e la eredita dal qualcuno prima di lui e quel qualcuno è quello che io credo sia stato insieme a Mohammed Ali il più grande atleta del novecento vale a dire Michael Jordan Michael Jordan ha giocato ogni minuto della sua carriera forte che fosse una partita di esibizione dove stava in campo 16 minuti in prestagione a Racine Wisconsin dove lui non era tenuto a fare praticamente niente tranne che portare il suo augusto corpo in giro per il campo lui se era in campo giocava forte magari gioca solo 16 minuti su 48 ma quei 16 gioca per davvero perché deve a se stesso a chi lo paga a chi lo vede un obbligo ma più di tutti lo deve a se stesso perché se lui lascia stare per un minuto soltanto allora si dà una giustificazione permette alla sua testa di registrare un'altra visione del mondo lui non può permettersi di registrare un'altra visione del mondo perché avrebbe accesso a quella quando questa arriva e lui non la vuole e questo secondo me è lo stesso principio di De Niro è lo stesso principio di Matthew McGonaghy hai un obbligo nei confronti tuoi per il mestiere che fai di andare fino in fondo indipendentemente dalle conseguenze solo così avrai onorato il contratto che hai che ancora una volta non è necessariamente con quelli con cui lo pagano ma con se stessi e devo dire che pur non essendo io in grado di produrre per me una condizione psicofisica del genere penso che sia uno dei pensieri contemporanei nel mondo dello spettacolo più avanzati e basket o Hollywood per me è la stessa cosa sono professionisti che hanno una visione del mondo e di se stessi sinceramente molto avanzata per il mio standard io sono Elia del secondo anno volevo chiederti secondo te che fai dello stile narrativo a un tuo punto di forza quanto è importante lo stile nella narrazione sportiva contemporanea mi definisci stile personalità nel raccontare quando leggi un libro cosa pensi dello stile di scrittura ti dà l'impressione di poter riconoscere un autore da uno stile di scrittura a volte sì a volte no mentre la voce connota per forza nel senso che tu puoi parlare in maniera estremamente anonima però la voce se l'hai sentita tende ad essere più facilmente riconoscibile o meno confondibile diciamo così questa è una domanda molto forte ovviamente per chiunque si azzardi ad avventurarsi in una qualsiasi forma di narrazione ogni cosa che io ti racconto qualsiasi cosa che io ti possa raccontare la puoi trovare insieme a me qualsiasi storia che io a meno che proprio non me la sia inventata la puoi trovare in questo momento hai accesso a tutte le informazioni che vuoi sul pianeta ogni cosa anzi puoi saperne molto più di me su quello che ti sto per raccontare quindi io penso che a questo punto se questo concetto è vero e sinceramente credo lo sia esiste soltanto un altro modo per poter diventare in qualche modo ascoltabili o leggibili e cioè a dirti una cosa a cui hai accesso anche tu raccontartela guardartela sezionartela in una maniera che io debbo pensare auspicare non sia la tua se coincidono stai perdendo del tempo se non coincidono sia che ti piaccia non ti piaccia hai per un minimo di tempo attenzione per questo cioè se è un argomento che ti interessa puoi arrivarci anche tu ma eventualmente ti piace di più o ti stimola di più un altro modo un altro approccio alla stessa cosa credo che chiunque voglia narrare o scrivere stia ottenendo l'unica cosa possibile oggi ovvero sia di generare attenzione in qualcuno che ha uno standard molto alto di percezione e di conoscenza se poi invece quella cosa non la conosci la potresti conoscere ma non la conosci perché non ne avevi mai avuto curiosità e le due cose si fondono allora hai ottenuto penso la situazione ideale ovvero sia un modo di raccontartelo di scrivertelo di fartelo immaginare e una parte informativa perché non ci eri passato prima quindi credo che la tua domanda possa secondo me essere sintetizzata così se sei in grado di creare un modo che ti renda vagamente ascoltabile o attraente indipendentemente da quello che stai dicendo nel mondo contemporaneo dove tutti hanno accesso a tutto hai segnato diciamo il tuo sentiero luminoso e penso che valga più o meno per tutti quelli che vorranno fare questo perché quando vi capiterà di doverlo fare e penso che più o meno tutti ci proverete vi accorgerete della difficoltà del registro espressivo ovvero sia questa l'ho già sentita questa me l'hanno detta così di cercare di trovare la propria strada e questa è anche una questione di opportunità dipende a chi vi stimola a farlo in che condizioni e poi posso dirvi una cosa proprio di cuore ma proprio di cuore cazzo dipende dal momento della tua vita dipende dalle persone che stai incontrando non credo che esista la solitudine assoluta nella fase espressiva esiste esiste tantissimo l'idea di chi sono le persone attorno a noi ci sono dei periodi in cui io sono totalmente sterile perché non sono particolarmente stimolato dalle persone che incontro e dei periodi in cui invece mi accorgo di avere di più perché sono stimolato dalle persone che incontro io credo assolutamente che anche molti dei registri narrativi di un narratore dipendano dalle fasi della sua vita e le fasi della nostra vita dipendano che abbiamo attorno a noi ogni tanto mi sorprendo di quanto io mi possa permettere di rubare dalle persone con cui ho del tempo da condividere e proprio loro si lasciano portare via le cose Flavio tranquillo mio partner di Telecronaca non so quanti anni 17 15 17 era uno che proprio senza mezzi terni perché è ostico ma di grande generosità lasciava cadere delle monete intenzionalmente e faceva finta di non aver voglia di andarle a raccogliere e se le lasciava lì tu contavi 4 3 2 1 non la prende la prendo io ma anziché ridarla a lui te la metti in tasca tu e lui diceva tua non è che non vedesse lasciava questo incide tanto tanto grazie quanto tempo abbiamo ancora scusate io non so neanche che ore sono chiedo ai capi quindi tanto no io anche di più dai io sono Andrea faccio il terzo anno cazzo ho una domanda specifica che non credo interesserà a tutti però a me serve proprio che cos'è la maglia numero 7 del Manchester United la mia prossima storia è basata su quell'uomo lì mentre stavo venendo qua col treno da Milano stavo leggendo tutto quello che trovavo su George Best che è il primo che l'ha indossata in un certo modo e l'ha resa iconica per tutti quelli che avessero poca familiarità il Manchester United è la squadra più visibile del calcio mondiale in questo momento ha farmato adesso un contratto con l'Adidas di sponsorizzazione con cui praticamente si potrebbero comprare il campionato italiano non so se avranno i giocatori da comprare con quei soldi comunque per tradizione la loro numero 7 è una maglia mistica e il primo a indossarle è stato un irlandese di 1,73 m peso 69 kg proveniente da un quartiere povero di Belfast suo padre era uno che lavorava ai docks ovvero sia ai cantieri da cui è stata licenziata all'inizio del 900 la barca che non poteva affondare il Titanic a gara 1 è andato giù Georgie Best è la persona più affascinante del 900 per quanto mi riguarda dal punto di vista sportivo la sua famosa frase nella vita i soldi li ho spesi per figa l'alcol e altre cose e tutti gli altri li ho sprecati non l'ha mai detta a nessuno ma è sempre associata a lui ma è quello che ha detto al cameriere che gli portava la boccia di Don Perignon mentre lui si trombava una Miss Mondo una delle tante next il bello della numerologia è che ci sono proprio personaggi come questi che ti permettono di poterne parlare ma come al solito più ci vai dentro nelle cose che lo riguardano perché una volta che vai in un capitolo e approfondisce un giocatore un uomo uno sportivo a un certo punto ti devi quasi fermare non hai neanche voglia di andare troppo dentro nella sua vita è un senso quasi di di difficoltà di fermi come dire questo che è un uomo che si è bruciato il cervello con l'alcol che è stato per un anno il miglior giocatore del mondo e però a 30 anni era praticamente un uomo finito sono le classiche storie di quelli che ti fanno impazzire che se avessero continuato a giocare non sarebbero mai stati anche in salute così belli ovvero sia non so se avete letto che in questi giorni è morta Lilli Carati Lilli Carati era il nome d'arte di una varesina che si smasse Caravatti di cognome è morta dopo essersi fatta di tutto in questi anni ed è stata una stellina del cinema di commedia italiano degli anni 70 ma al di là dei film con le professoresse di scienze naturali e cose ha fatto un film fu scelta praticamente da lui vale a dire da Giovanni Brera Fu Carlo grande giornalista sportivo e scrittore dell'Italia degli anni 60 70 per interpretare il suo romanzo Il corpo della ragassa già scritto in Lombard e lui vedendola perché aveva apprezzato molto il casting disse io auguro a questa donna di morire presto perché non vorrei mai vederla sfiorire ma vorrei che questi suoi occhi che lui descrisse come ucraini che all'epoca non erano espressioni che si usava molto ma molte di quelle che ha usato lui non si erano usate mai ecco in quei momenti lì tu pensi esattamente a quello che personalmente pensi George Best io sono contento che abbia giocato poco perché ci sono singoli giocatori che è meglio che giochino poco che lasciano quell'imprinting neanche li ha visti in questo periodo se voi volete potete andare su YouTube e vi vedete la finale del 1968 a Wembley la prima vittoria della squadra inglese perché l'anno scorso ha avuto il Celtic in una coppa dei campioni in quella partita ti accorgi chi era questo questo era un giocatore che si poteva permettere una cosa che praticamente non avreste visto mai più ovvero sia il dribbling lo portava qui questo è il piede del difensore e lui portava la palla fino a questo punto mentre normalmente si dribbla molto prima ma lui voleva fare il Cordobes che è un torero coevo di quell'epoca il Cordobes si metteva davanti al suo toro così 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 lo voleva qui quindi ogni volta che scendeva nell'arena lui voleva morire voleva morire voleva finire in maniera gloriosa la propria esistenza nessun torero si poteva permettere di portare il toro fino all'Ibes giocava nello stesso modo cioè voleva sempre portare tutto fino al limite e quindi questo tipo di persone non possono durare perché pensano alla loro vita in quel modo e quindi ogni volta che le deve raccontare arrivi a un passo e certe volte ti sembra quasi di violarne un po' la loro prova sia andando oltre però di tutte le storie che sto leggendo in questo periodo questa qua è nettamente la più affascinante da lì in poi la mistica del 7 dello United è continuata ma quando chiedevano a Best in vita che cosa ne pensasse dei suoi eredi lui fino al nome ultimo diceva a Cristiano Ronaldo all'epoca un giovinotto dice bravi questo qui va bene questo qua potrebbe essere il suo erede perché tutti continuavano a fare il paragone su quello successo dopo che era David Beckham che Best detestava e il commento su David Beckham di Best era a parte il fatto che non ha il piede sinistro a parte il fatto che non dribbla nessuno a parte il fatto che non la prende mai di testa a parte il fatto che in molti momenti la partita non esiste per il resto è ok chapeau prossima domanda salve io sono Tommaso e sono una matricola una matricola una matricola io sono felice di vederti in genere ti vedo dopo gli impressionisti su Skyart dopo gli impressionisti ci sei tu e vado fino a tardi volevo chiederti cosa pensi esattamente del fenomeno Balotelli del fenomeno mediatico non del fenomeno come mai è un personaggio attraente sì ma come mai in particolare ti colpisce lui no no però come mai ti colpisce così tanto Balotelli per l'aspetto mediatico per lui vuoi sapere una mia opinione sì una tua opinione personale sul fenomeno mediatico cerco di tenertela il più succinto possibile perché immagino che questa è proprio un'opinione personale guarda io penso che in questo momento quello che stia succedendo a Mario sia per certi versi abbastanza spiacevole ovvero le ultime due squadre dove ha militato il Milan e la nazionale italiana lo additano senza mezzi termini a il motivo per cui siamo andati male è tutto colpa sua la stampa italiana non fa altro che dire che ieri sera pigliano tre gol dal Real Madrid il titolo non è che il Real ha dato tre gol al Liverpool è che Ronaldo e Benzema danno lezioni a balo perché gli altri del Liverpool non ha giocato solo lui io non ho niente da pensare di particolare di Mario Balotelli non ho la pretesa di giudicarlo dal punto di vista tecnico non ho la pretesa di giudicarlo dal punto di vista tattico non ho la pretesa di giudicarlo dal punto di vista comportamentale prima perché avendo commentato per 15 anni i giocatori dell'NBA Balotelli al confronto è uno del coro dello yodel nei grigioni per la mia visione del mondo cioè pensate uno che ha commentato 15 anni Ron Artest che cos'è Balotelli è uno che ha cambiato tre nomi nelle ultime settimane l'ultima di Salvate il Panda più o meno figurate quindi non ho non ho nulla da dirgli di personale cioè cosa farei io umanamente parlando se fossi lui perché io sono afflitto da 55 anni alla sindrome di Peter Pan e che cosa posso dire a Mario Balotelli no una sola cosa cazzo gli vorrei dire però Mario Balotelli ha un nome italiano ha uno spiccato accento bresciano ma è un guerriero ascianti ovvero sia una delle dieci razze principali dal punto di vista fisico del pianeta Mario gioca come un guerriero ascianti il resto non mi interessa gioca come un guerriero ascianti Mario non gioca come un guerriero ascianti gioca come un ragazzo italiano che non sa di essere finito lì dentro ma la sua base antropologica è un'altra e se tu prendessi Mario e lo portassi negli Stati Uniti o anche in Ghana da cui proviene glielo direbbero loro ma non così dolcemente glielo direbbero con un pochino più di intensità sai che mi è venuto in mente questa cosa perché mi ricordo quando facevo l'avvocato dovevo portare in Italia dovevo trattare i contratti dei giocatori neri americani erano gli anni 80 e si stava facendo strada in Italia un rapper Lorenzo Cherubini in arte giovanotti io mi ricordo che arrivavano dalle città da New York dei ragazzi che diciamo avevano visto un po' di strada e un po' di rapper vi ricordo che originariamente il rap è veramente un confronto fisico tra i due rapper è verbale fisico ci sono varie variazioni però era veramente una cosa fisica e io mi ricordo i giocatori americani quando sentivano vagamente dire rapper scusa ma quello lì è un rapper sì però cioè Chris devi metterlo sotto un concetto no 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 quello lì è un rapper cioè da voi i rapper sono così no no Chris cantante cantante perché non c'era mai questa parte di confronto fisico e in quel momento pensai ok ci sono dei luoghi della terra dove dal punto di vista antropologico sei tenuto a comportarci in un terzo modo Mario è probabilmente una strana fusion di chi sarebbe e chi è diventato per il corso della propria vita ma a mio modo di vedere dovrebbe recuperare integralmente la sua parte primigenia dimmi vittorio vittorio primo anno fortunatamente tifo milan con la s o con la f no tifo milan sfortunatamente o fortunatamente fortunatamente da molte generazioni e niente allora parto da una premessa molto di parte devo dire cioè che diciamo tu di base sei un giornalista o perlomeno hai assunto questo ruolo nel tempo per me io ritengo insomma tu rappresenti un po' nel senso lavori per Sky più o meno con questa veste poi sei diventato un narratore che è un po' una sublimazione di quello che patentino no che patentino dell'ordine giornalista ah ok perfetto perfetto però hai ragione tu ho soltanto la tua tascita poi voglio dire nel tempo sei diventato un narratore che è un po' una cosa molto più bella molto più bella allora perché un narratore o un giornalista chi fa il tuo mestiere racconta lo sport e soprattutto qual è la storia di sport che per te è emblematica ok qui abbiamo bisogno di un supporto letterario io quando avevo 15 anni 16 anni sono stato tra virgolette costretto da mio padre a partecipare alle selezioni per andare teni presente agli anni 70 a studiare un anno negli Stati Uniti allora come adesso avendo loro 4 anni e non 5 di scuola superiore tu facendo il loro quarto facciamo pigliavi la maturità americana e ti abbonavano in Italia al tuo quarto anno di liceo in questo caso era liceo classico potrebbe essere scienziato e tu perdevi realmente un anno italiano ma rientravi per l'ultimo era un buon sistema io sono andato alle selezioni che sono tenute sul lago di Como e sono stato tagliato al primo giro con la dicitura inadatto al mondo americano cosa che io non presi molto male ma mio padre diventò un animale dicendo sei il solito fuco che non è una bella cosa mio padre in professione faceva psicoterapeuta e quindi era un padre da non perché no non ti rispondeva in compenso alle volte gli dicevo papà perché non mi rispondi perché no come tutti gli altri papà e non mi dai la spiegazione perché le cose più gentili che mi diceva è tipo sei un analfabeta dei sentimenti papà cazzo ho 17 anni ai brufoli mi diceva che sono un analfabeta dei sentimenti secondo te e decine di queste altre quindi mio padre per il mio regalo di maturità disse tu andrai negli Stati Uniti a spese mie quindi mi mise in un corso di sociologia alla summer session della stagione 1978 all'università di California Los Angeles mi prese il volo dell'American Airlines via Amsterdam credo Amsterdam New York New York quella notte morì Papa Paolo VI mi ricordo e venne succeduto da Papa Luciani che durò poco e quando io arrivo negli Stati Uniti dissi ma sai che il papà non aveva proprio tutti tutti i torti ovvero sia venne a contatto con un modo di vivere intensamente quello che ci circondava leggermente diverso dagli standard nostri tenete presente che l'Italia negli anni 70 non era questa andare negli Stati Uniti era veramente un viaggio pensate che all'università c'era la mensa vera i ragazzi americani avevano una ricchezza che noi non potevamo neanche pensare quindi tu arrivavi alla mensa e dicevi scusi ma se io adesso le chiedo quell'hamburger lei me lo dà e ci mancherebbe quante volte tutte le volte che vuoi cioè io posso far mangiarlo tornare di qua rimangiarlo sì ma non fermare la coda ok quello quella si chiama dispenser quindi io posso prendere tutte le coca-cole che voglio cioè non devo mi da una coca 150 prendi cioè tu tu io il primo giorno non riuscivo a parlare mi muovevo con il rumore di risacca nemmeno 20 ero completamente travolto dal contesto di dovere ma si può fare tutto questo e loro continuano a guardare ma questi qua da dove vengono quindi associai la mia idea di qui è diverso proprio in maniera fisica 30 anni dopo mi capito di leggere una cosa scritta meravigliosamente da Borges scrittore di un certo qual momento che secondo me centrò perfettamente quello che all'epoca mi sembrava soltanto un contesto ovvero gli americani non avendo un'epica e quella che hanno non è particolarmente divertente a ricordare perché è uno dei peggiori genocisi della storia hanno sostituito la carenza di epica storica con le narrazioni della loro contemporaneità e anziché far diventare lo sport come è da noi un fenomeno sociale con nessun inserimento del mondo scolastico e così via ritengono lo sport una parte integrante del loro sistema se tu presenti un curriculum negli Stati Uniti se hai remato per una società di canottieri ti invitano a scriverlo qua se tu ti presenti ho remato per guardi questo possiamo anche toglierlo che non succede niente e lì intui che c'era un modo differente riguardare la cosa che mi piaceva di più cioè lo sport e quindi mi sono accorto che esisteva una cultura della letteratura sportiva che noi non avevamo ma che vale ancora adesso il cinema italiano dello sport non si è mai interessato si è mai fatto in maniera parodistica loro hanno prodotto tantissimi film in cui invece lo sport ha un ruolo fondamentale e quasi sempre hanno la stessa linea ovvero sia la seconda chance io prendo uno che è passato col rosso che ha sbagliato che non è più lui gli do una seconda opportunità e lì si decide la sua vita ne rimasi assolutamente folgorato e quindi ho passato tutta la parte professionale in cui mi veniva concesso di poterlo fare cercando di andare a prendere da questo scaffale della mia esistenza quella parte ovvero sia delle storie di sport perché secondo me nessuno le aveva mai narrate bene come loro e sostanzialmente faccio ancora la stessa cosa e l'ho fatto fino a un paio di anni fa adesso devo parlare di altre storie però cerco sempre di tenere quel modo di raccontarle perché il modo in cui hanno gli anglosassoni americani in particolare di raccontare lo sport secondo me ancora una volta come la questione di Lenire McGonaghy li distingue proprio per il valore che danno allo sport che non è affatto un valore sociale perché questa è una germinella da azione cattolica molto di più e io penso che sia il sistema per ispirarsi più pronto più immediato per le mie caratteristiche una donna che fa una domanda esiste? no la volontaria scusa scusa la seconda scusa scusami tantissimo cazzata mia colpa mia scusa ti volevo chiedere al di là del eccolo Angelo secondo ciao Angelo ti volevo chiedere al di là delle cose che ci hai detto all'inizio delle annotazioni cioè immagino adesso che le storie che tu vuoi raccontare te le scegli giunti ad un certo livello più o meno si le propongo concretamente la fase di ricerca una volta che hai scelto qual è la storia tolti i momenti di incontro di coincidenza di serendipità che non sono quasi mai casuali il lavoro concreto di ricerca c'è degli archivi una redazione di supporto nel momento in cui c'è la storia tu ti occupi solo della voice over partecipi al montaggio scegli le immagini guarda dovrebbe esserci qua non so se non ci sia arrivata o meno la mia produttrice a sky ma non so se sia da qualche parte devo dedurre no che avrebbe risposto meglio a questa tua domanda dunque in come in tutte le cose è fondamentale circondarsi di persone che abbiano accesso alla tua sensibilità quindi ti scegli dei ragazzi uomini che possano fare una parte autoriale cioè tu sai loro sanno che cosa piace a te e tu sai che loro sono adatti a cercarla questo è fondamentale io devo leggere mediamente dipende dalle storie tanto e leggo sempre continuamente leggo quando mangio leggo quando viaggio leggo quando passo i pomeriggi dopo che magari sono andato a correre cose di questo genere leggo tantissimo annoto molto però c'è un problema non esiste un testo è tutto basato sulla mia memoria ogni cosa che io ho fatto è stata totalmente improvvisata cioè non ho mai fatto ricorso a una cosa scritta ho sempre sperato nella mia memoria però il problema qual è che quando sei in televisione ho il vantaggio quale di fatto hai una rete sotto il trapezio perché se tu sbagli teoricamente puoi rifare mi è capitato di fare delle cose live dove non c'era però mediamente lo potevo rifare io per adesso non ho mai fatto una cosa scritta e ho sempre pensato che lo sviluppo della narrazione mi venisse spontaneo la prima che fai è sempre la migliore per spontaneità poi da lì in poi se la rifai ti accorgi quali sono i passaggi dove devi cambiare il registro dove devi usare una parola alle volte ti fermi ne cerchi un'altra se non ti è piaciuta quella che è uscita per prima però sai per esempio delle cose che ho fatto l'anno scorso ne ho viste due soltanto io su dieci puntate della storia mondiale ho visto il 1930 nel 1966 perché mi piacevano le storie e la mia produzione aveva detto che aveva trovato delle immagini di Pickles il cane che trova la coppa del mondo nascosta a un parco da chi l'aveva rubata e che muore dopo il mondiale perché in un delirio di ogni potenza serviva un gatto ed è rimasto impiccato col guinzaglio in un parco di Londra Pickles che è il quadruple più amato della storia d'Inghilterra lei aveva trovato delle foto fantastiche quindi quella puntata l'ho vista il 1930 perché era la mia storia preferita e non credevo loro potessero avere delle immagini così belle per il resto non ne ho vista nessuna perché ho veramente molta difficoltà a vedermi e ad ascoltarmi quindi non ho un testo e non mi vedo mi ricordo più o meno quello che ho fatto però l'altro aspetto fondamentale è chi sono quelli attorno a te ovvero sia i tuoi autori se ci sono ti dicono mentre le stai dicendo le tue inesattezze e i tuoi produttori ti danno un'indicazione di quello che loro pensano sia meglio per cui ci sono delle storie tipo non so se per caso ti è capitato di vedere Michael Jordan no ok però Michael Jordan per me era una cosa molto emotiva per cui ho fatto 75 minuti continuati cioè non mi sono accorto sono entrato l'ho fatto 75 e alla fine la produttrice mi ha detto guarda sei circa 15 minuti lungo e io ho detto ok e io non l'ho mai voluto vedere perché non so che cosa perché hanno tolto 15 minuti io non ho mai voluto sapere che cosa abbiano tolto e ci sono delle storie dove invece fai fatica perché non viene scorre meno non sei convinto tu allora lì hai bisogno che i tuoi produttori ti aiutino un pochino e ti dicano ma potremmo dare questo angolo e tu sei sempre con te stesso stai semplicemente improvvisando e quindi sei abbastanza costretto ad ascoltare qualcuno se non ce l'hai proprio dentro e quindi alcune vengono meglio di altre perché dipende che stato hai però loro per esempio ti dicono non è necessario che quella che tu controlli più sia quella che riesce meglio alle volte se è una che controlla relativamente meno ti obbliga a pensare diversamente sei meno torrenziale fluviale sei più attento alle parole che usi perché ne hai meno e quindi non necessariamente la nostra sensazione è poi quella di chi ci deve lavorare il mosto della storia viene preso dai produttori che lo fanno diventare il prodotto che esce e anche lì hai bisogno di gente che ti conosca e sappia guardare quello che dici se mi consenti l'espressione grazie per la domanda ciao sono Maria Teresa sono nel primo anno volevo chiederti un consiglio dal momento che in Italia diciamo viviamo di calcio non è una cosa nuova volevo sapere secondo te la delusione che porta una partita di calcio scusa vieni qua dai vieni qua vengo io da te vengo io da te seguo il calcio sono una tifosa volevo sapere se è una cosa giusta dedicare così tanto al calcio c'è così tanto emotivamente perché ci soffriamo così tanto ci soffriamo per esempio c'è un libro per il 90 bello peach fever stupendo certo cambia la sua vita cambia completamente però se tu mi fai questa domanda hai già la risposta secondo me qual è la tua risposta la domanda perdonatemi è vale la pena scusa colpa mia vale veramente la pena soffrire così tanto per l'esito di un evento sportivo in questo caso il calcio il riferimento è a un bel libro di Perry Doyle peach fever ovvero febbraio 90 questo ragazzo tifoso dell'arsenal modula la sua vita a seconda dei risultati dell'arsenal la risposta secondo me tu ce l'hai e per adesso è sì è sì io mi sono comportato in maniera analoga e oggi guardandomi indietro non voglio rinnegare nulla ma credo di che arrivi il momento in cui ti distacchi un pochino di più però se ti dovessi dire il momento più bello della mia vita è il ritorno per 1200 chilometri di autostrada francese da Barcellona dopo che il Milan nell'89 aveva vinto 4 a 0 contraste quei 1200 chilometri sono semmai stato su quell'autostrada ci sono un milione di caselli i francesi non fanno un casello ne fanno tantissimi e a ogni casello dell'autostrada francese noi scendevamo con i francesi che ci guardavano e passavamo non so tre minuti a cantare le canzoni del Milan a ogni casello io sarò tornato a casa circa un giorno e mezzo dopo e quando la partita era finita era uno staletato di ebrezza che non mi accorgevo realmente di che cosa fosse successo il problema è che ti svegli la mattina dopo e invece prendi atto e allora all'epoca che era veramente un'altra epoca noi passavamo non so il viaggio di ritorno a immaginare quale sarebbe stato il titolo della gazzetta dello sport mentre oggi semplicemente schiacciando gasport vai prenderesti il titolo ma ovviamente era un altro contesto e non se mi chiedessero anche a 107 anni qual è il giorno più bello ti ridico quello ho la pretesa di pensare che in questo momento la mia componente emotiva si sia ridotta poi il Milan si impegna anche da questo punto ciao sono qua sono qui su ok io mi chiamo Anita sono anch'io del primo anno e ho una domanda che con tutta probabilità è solo il mio grande viaggio mentale però proverò farla lo stesso e in questa conversazione abbiamo parlato sostanzialmente di questi due mondi il primo che è l'India che abbiamo comunque collegato questo concetto del nulla quindi una sorta di svuotamento e l'altro invece è quello dell'America e in particolar modo degli sport americani che io adesso non sono una grande esperta di sport americani di sport in generale però sono andata a vedere una partita di baseball in America e la sensazione che mi ha dato è questa di questo continuo riempimento di ogni spazio vuoto cioè per esempio la kiss cam o la dancing cam ogni altra cavolata che per chi per chi non ha messo l'idea cioè durante i passaggi della partita due vengono una coppia viene inquadrata e gli viene chiesto si e tantissime altre cavolate per riempire ogni buco possibile immaginabile e io mi chiedevo un po' avendo parlato di questi due mondi diciamo di più uno svuotamento quello invece di un riempimento così ossessivo quale possa essere un punto di incontro che crea una sorta di equilibrio fra queste due parti che sono due concetti molto diversi e due mondi culturali molto diversi da questo punto di vista che cosa pensi? no che è un punto di incontro si possa insomma il sistema europeo che è ma sì in realtà io credo che nel sistema europeo il sistema europeo potrebbe essere questo ponte ma che in realtà ci facciamo talmente tanto condizionare da questo mito dell'America che cerchiamo di copiare in ogni modo secondo me il sistema europeo importa dagli Stati Uniti le cose che sarebbero da lasciare a loro e non importa le cose che avremmo interesse a riportarci ovvero sia a me di avere le CR leaders a bordo campo sinceramente interessa molto poco non credo che migliori così tanto quello che stiamo vedendo loro hanno questo concetto che siccome spendi tanto per andare allo sport non è mai popolare il prezzo dello sport negli Stati Uniti lo sport professionistico costa caro in più il loro sistema è tale per cui non vai allo stadio con i mezzi pubblici o in bici nella maggior parte dei casi sei fatto 20 km di auto per andarci spendi 15 dollari di parcheggio mangi allo stadio è un investimento di svariate centinaia di dollari quindi loro pensano che come spesso succede nella loro cultura se spendi così tanto e ti do uno spettacolo di tre ore voglio dartelo tutto noi invece siamo più abituati a dei tempi differenti ma io negli Stati Uniti non porterei a casa né le CR leaders né la case camp permesso che ci sono tutte e due ormai in circolazione io porterei invece altri concetti il primo di tutti è un concetto etico e ti rispondo proprio immediatamente negli Stati Uniti la maggior parte dei dosti proprietari di squadre di calcio non potrebbe avere una squadra di calcio per via delle ripetute condanne penali e il nostro presidente federale non sarebbe candidabile ecco questi sarebbero i principi che andrà a prendere e CR leaders che le lascio a te Alessio secondo anno Torino quanto abbiamo ancora? un quarto d'ora ultima? ultima allora faccio due domande che sono due riflessioni su due cose che abbiamo già citato abbiamo citato questa tendenza a creare una sorta di super atleta in tutti gli sport la mia domanda era partendo dal calcio con un po' il mio mondo facendo il paragone moderno Messi Cristiano se questa idea dell'atleta come super uomo non rischi di appiattire il potenziale narrativo quindi Cristiano Ronaldo super uomo però con un potenziale narrativo magari più basso Messi con una storia molto particolare eccetera eccetera la seconda cosa si ricollega al concetto dell'informazione che noi abbiamo tutti i giorni dovunque e se questo fatto di avere l'informazione in pugno non faccia spostare i temi narrativi a qualcosa che sia un approccio dietro le quinte quindi essendo che noi abbiamo già tutta l'informazione e quindi in grado di farci un'opinione sì io ricordo un per esempio parlo di basket che non è il mio mondo ricordo un tuo quarto cioè un quarto dove tu spiegavi la storia di Javal McGee dei Denver Nuggets e per me quella è tipo è la Bibbia questi sono i due ragionamenti la prima parte è il motivo io concordo pienamente con te sulla tua prima parte non ho voglia di fare il nostalgico ma se per caso hai notato preferisco raccontare storie che sono da un'altra parte che non abbiano quello che io in questo momento chiamerei il vizio di Youtube cioè o qualsiasi cosa sta succedendo nel mondo la puoi vedere mentre la base di una narrazione è che per provare a raccontarti una cosa che o hai visto poco o assolutamente non hai visto per lasciarti la possibilità di immaginare e la possibilità di immaginare secondo me è il più grande alleato del narratore se il suo interlocutore ce l'ha oggi dove per via dei loro contratti pubblicitari e di questa idea che è nata che gli sportivi devono avere soprattutto questa mascolinità accentuata sono un pochino omologhi mi sembra che in tanti sport non soltanto nel calcio o nel basket nel tennis per esempio nel tennis manca tutta quella follia da anni 60-70 dei giocatori all'anastase che sotto 15-40 anziché mandartela di là giocavano il colpo più difficile della partita a costo di subri un break cioè quella zingaresca balcanica capacità di vivere di rosso e nero che in questo momento non c'è sono molto più attenti guadagnano di più sono così attenti a loro immagini mi diceva Carlo Ancelotti che i giocatori del Real Madrid passano un sacco di tempo a guardarsi allo specchio prima di entrare in campo e si chiedono tra di loro ma bene o no il Real Madrid di Busca secondo me si poneva meno problemi e e quindi è proprio cambiata la percezione quindi sinceramente anche se non mi piace fare il nostalgico la parte romantica dello sport è probabilmente quella passata però sarà divertente per chi fra 50 anni dovrà raccontare questi qua a vedere dove sono andati quelli della loro epoca la seconda domanda se ti è piaciuta la descrizione su Jamal McGee è perché probabilmente sono riuscito a raccontare una cosa che mi riguardava ovvero sia questo è un problema che qualsiasi uomo che narri ha quanto di te puoi dire in una cosa quanto l'autoreferenzialità abbia un senso in quel caso lì avendo conosciuto quella brava signora di sua madre che era una Roma una spaccacazzo mamma me e quindi mi diceva la signora Gallinari che era compagna di squadra di Jamal che la signora McGee era sempre a bordo campo e lei ha un'opinione su tutto lei è stata un'olimpionica una grande giocatrice e come nel caso di Cristiano Ronaldo il figlio lo stava perdendo la mamma di Cristiano Ronaldo voleva abortire era il terzo e questo non lo voleva e qualcuno l'ha convinta a metterlo al mondo e gli è nata la salvezza dei suoi giorni e invece e anche Pamma che non aveva più praticamente rapporti con il padre di Jamal ci ha fatto un ampio pensiero e invece come spesso succede nei casi dell'esistenza aver tenuto in vita questi due embrioni gli ha regalato penso le due più grandi soddisfazioni della loro esistenza e quando avevo avuto l'opportunità di parlare di Jamal avendo conosciuto sua madre e vedendola spesso all'epoca al bordo campo forse il fatto di averla potuto filtrare con qualcosa di mio ha dato alla storia una connotazione un contorno una colorazione migliore spero che sia così almeno grazie per la bella domanda grazie grazie per essere venuti